Musica Mai così seguite le elezioni per la carica di sindaco di Bergamo L'anima entry del Movimento 5 Stelle viene presentato dal sindaco grillino Pizzarotti Per il candidato del centro-sinistra Giorgio Gori c'erano Pisa Pia e la governatrice Serracchiani E si sono intrecciate tante storie politiche e personali Il nome evoca storie di intrighi, di accordi sfuggevoli, di latitanze una volta dorate Abbiamo chiesto a un giornalista che vive a Beirut e la conosce bene Come è cambiata in questi anni e perché Dell'Utri sia finito proprio lì Poco più della metà dell'arsenale chimico siriano è ora in acqua internazionali A largo di Latakia, quando verrà completato i carri potranno partire Un lavoro rischioso e lento che sta accumulando ritardi Abbiamo fatto il punto con chi lo sta organizzando dopo l'attacco chimico di ieri Si alza la temperatura degli oceani e le conseguenze le pagano anche i ghiacciai delle nostre montagne La vegetazione delle Alpi sta cambiando, le specie arboree alpine cercano altri habitat per crescere E i ghiacciai che si sciolgono sprigionano quei vecchi veleni incamerati in profondità nel corso dei decenni Nelle Filippine è un campione nazionale, uno degli sportivi più pagati al mondo Manny Pacario, detto Pac-Man, ha vinto di nuovo a Las Vegas la cintura mondiale WBO dei pesi velter La sua è una storia di boxe di politica perché è diventato parlamentare e punta, una volta sceso dal ring, alla presidenza delle Filippine Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al nuovo appuntamento con il Tg Crona Che è allora entrata ormai nel vivo la campagna elettorale Ieri lo avete visto il premier Matteo Renzi era a Torino a sostenere la candidatura alla guida della regione Piemonte di Sergio Chiamparino Perché a maggio, lo sapete, non si vota soltanto per le europee ma si vota anche per le amministrative in alcune regioni A Bergamo, che è una storica roccaforte del centrodestro, si vota per eleggere il nuovo sindaco E la sfida è tra il sindaco di centrodestra uscente Franco Tentorio e il manager e ex spin doctor proprio di Matteo Renzi, Giorgio Gori Ma l'attenzione è anche puntata sul risultato che avrà il candidato del Movimento 5 Stelle Ieri a Bergamo per sostenerlo c'era il sindaco di Parma Federico Pizzarotti che, lo sapete, in queste ultime settimane è in aperto di studio proprio con il leader Beppe Grillo Allora noi ieri siamo stati a Bergamo per cercare di capire un po' che aria tira Partiamo da qui Due ex fedelissimi, due figure che in modo diverso hanno portato elementi di novità nei loro partiti E che vedono nella gestione della città dove sono nati e cresciuti il momento più diretto e nobile della politica A Bergamo c'è odore di amministrative Il prossimo 25 maggio, giorno in cui caldano anche le elezioni europee, si andrà a votare per il nuovo sindaco Nell'auditorium di Piazza della Libertà parla il sindaco di Parma Federico Pizzarotti Il primo eletto dal Movimento 5 Stelle che nel giro di due anni ha dimezzato i debiti della città Un punto di riferimento importante per il candidato sindaco grillino Marcello Zenoni Quarant'anni, architetto che a Pizzarotti avrà chiesto qualche consiglio Cambiare Bergamo come? Cambiandolo con la partecipazione dei cittadini ad un progetto concreto in cui crediamo fortemente La sala è piena ma le domande dei cronisti al sindaco di Parma si allargano inevitabilmente dall'orizzonte bergamasco Il tema non è le espulsioni che esistono in ogni partito, in ogni anche gruppo singolo La notazione che avevo fatto io era soprattutto su fare chiarezza su quali sono le modalità Perché ci sono persone in ogni gruppo, come dire, sociale, lavorativo o anche politico Che non condividono più la stessa linea Ma l'importante è chiarire quali sono queste motivazioni per prendere, come dicevo prima per la cittadinanza, scelte consapevoli La crisi con Beppe Grillo è che crisi? Lui, Pizzarotti, bollato sul blog dal padre del movimento come capitano pizza Incassa bene, replica continuando a muoversi nel suo ambito, quello del territorio Della gestione difficile di bilanci locali in rosso, di battaglie ambientaliste come quelle per l'inceneritore Che si possono anche perdere Incomprensioni e prese di distanza, prima di svelate sui social network, poi spiegate a suon di canzoni Una telefonata avrebbe fatto calare la temperatura Lui è qui a Bergamo, una piazza nuova da conquistare nel gergo dei 5 stelle Un feudo bianco prima, poi leghista e berlusconiano Una città bella e complicata, anche se vista da sinistra E il giorno dell'apertura ufficiale della campagna elettorale C'è un altro personaggio in primo piano, per dirla con un gergo televisivo A lui ben conosciuto Si gioca molto il 25 maggio, Giorgio Gori L'ex direttore di Canale 5 degli anni d'oro Uno sperimentatore nella rete generalista più importante di Mediaset Poi imprenditore televisivo E poi ancora tra i primi a credere nella forza costruttiva della rottamazione di Matteo Renzi Ora si gioca la carta di primo cittadino di Bergamo Sfiderà anche Franco Tentorio, il potente sindaco uscente del centrodestra Con Gori sul palco, la governatrice del Friuli, Deborah Seracchiani, Renziana E Giuliano Bisapia, che seppe vincere a Milano dopo più di vent'anni di centrodestra e Lega L'uomo del cambio si legge sullo sfondo del palco Palloncini bianchi, spille e magliette Atmosfera Renziana della prima ora Che ricorda i tempi della prima Leopolda Quella del 2011 Quando si disse che fosse proprio Gori L'autore delle cento proposte del programma L'anno dell'esplua con Varico e Zingales Sulle note assordanti di giovanotti Il più grande spettacolo dopo il weekend Siamo noi, recitava lo slogan E abbiamo chiesto se dopo tanti consigli dispensati All'allora Renzi, sindaco di Firenze Adesso gliene fosse arrivato qualcuno Dal Renzi premier Io non ho dato dei grandi consigli a Renzi Che è molto bravo di suo, dico la verità In questo caso non ho consigli da parte sua Se me li vuole fare arrivare Io sono sempre pronto a raccoglierli ovviamente Tra i fedelissimi renziani C'è chi dice che Gori in fondo Non si sia mai allontanato da Matteo Renzi Così come Pizzarotti da Grillo È solo una questione di personalità e carattere Che tanto servono in politica E domani mattina Beirut in Libano Si terrà l'udienza per la convalida del fermo Di Marcello Dell'Utri Nel telegiornale vi abbiamo raccontato La cronaca dell'arresto In un lussuoso albergo della capitale dell'Ivano E poi i dettagli E la procedura che si preannuncia lunga Per l'estradizione Ma perché proprio il Libano È stato scelto da Dell'Utri Per la sua latitanza Ne abbiamo parlato con Alberto Stabile Che è un giornalista di Repubblica Che vive da anni a Beirut E che quindi conosce molto bene quel paese Dimenticate la Parigi del Medio Oriente Che alla fine degli anni 60 Accoglieva bancarottieri in fuga Come Felicino Riva 45 anni dopo La capitale del Libano Porta ancora i segni di una guerra civile Durata 15 anni Un tutti contro tutti Che ha sconvolto la fisionomia Delle strade e delle etnie Dalla poesia si è passati alla tragedia Guerre di invasione Blizzarmati Attentati di ogni tipo Fino a quello che ha stroncato Nel 2005 La vita del premier Ariri Che aveva ricostruito la città Con i soldi sauditi Ucciso su quel lungomare Che era la meta preferita Dei VIP anni 50 E dove è stato trovato Anche Marcello Dell'Utri L'ultimo latitante Come si può spiegare La scelta di Beirut? La scelta di Beirut Appartiene ancora Agli arcani Di questo caso A motivi non spiegati Non noti Perché quelli che sono stati Messi avanti Da Dell'Utri Non sembrano francamente Molto credibili È vero che il sistema sanitario Di Beirut Privato E costosissimo È considerato Un sistema Molto molto efficiente Però Per un cittadino Diciamo Di Milano Per un uomo Che vive a Milano E che ha a disposizione Anche la possibilità Di Di andare Nelle migliori cliniche Nei migliori ospedali Insomma Trasferirsi a Beirut Per seguire i postumi Di un intervento Di angioplastica Mi sembra Un po' esagerato Alberto Stabile Giornalista della Repubblica Vive a Beirut Da molti anni Berlusconi avrebbe detto Di aver inviato Lui Dell'Utri A Beirut Per parlare Con il leader cristiano Gemmaiel A nome di Putin Una triangolazione Che ti sembra credibile Mi suona Assolutamente nuovo Che ci siano rapporti Tra Gemmaiel Putin Ho visto Questa triangolazione Putin Gemmaiel Berlusconi Gemmaiel È sicuramente Uno dei candidati Non ancora pienamente Svelatisi Alle prossime Presidenziali Libanesi La cui campagna È già in corso E che dovrebbe concludersi Entro Il 25 maggio Salvo Ovviamente Adeguamenti Adattamenti Alla difficoltà Del dibattito politico Che a Beirut È Notoria La vicenda Dell'Utri Ha come cornice Un paese Costantemente Lambito Dalle fiamme Dell'incendio siriano Con un milione Di persone Che in Libano Hanno trovato asilo Il fragilissimo Governo di Beirut Non dovrebbe avere Alcun interesse Ad aprire Un contenzioso Con l'Italia Questo governo Intanto è guidato Da una persona Che ha fama Di Incorruttibilità E di Di Onestà Politica Intellettuale Il premier Tamam Salam Che è stato scelto Anche Per questo Per questa sua Posizione Diciamo Di terzi età Rispetto Alla Così Alle lotte Politiche interne Libanesi Domani verrà Discusso Dovrebbe essere Discussa La richiesta Italiana Di estradizione Quante possibilità Ci sono Che venga accolta La legge In teoria Permetterebbe L'estradizione Di una Di un cittadino Italiano Così come Di un cittadino Libanese Se arrestato In Italia Se perseguito Da un mandato Di cattura Ma C'è anche Una postilla In questo Articolo Della legge Che se Questo mandato Di cattura Viene considerato Politicamente Motivato Allora Ovviamente La procedura Si allunga Si complica Bisognerà Aspettare Questa La decisione Delle autorità Libanesi Per capire Se ci sono O c'erano Eventuali Come dire Eventuali Connivenze Di cui Noi Allo stato Attuale Non sappiamo E dalle Vicende Che riguardano Dell'Utri In Libano Ci spostiamo Nella vicina Siria Dove continua La cronaca Terribile Di un conflitto Che dura ormai Da oltre Tre anni E nel paese È tornato Torna L'incubo Delle armi chimiche Ci sono stati Nelle ultime 48 ore Due attacchi Sette vittime E un rimpallo Di responsabilità Tra regime E ribelli Mentre continuano Le operazioni Per distruggere L'arsenale Chimico Siriano Alla mente Torna Quella strage Dell'agosto Scorso A Guta Con i suoi oltre Trecento morti Uccisi Dal gas Sarin E una recente Inchiesta Del New York Times Ha svelato Che Bashar al-Assad Non aveva Non possiede Quel gas E quell'attacco Chimico Sarebbe stato Compiuto Dai ribelli Immagini Terribili Adulti e bambini Che faticano a respirare Stesi per terra In affanno Avvelenati E soffocati Da un nuovo Attacco Con gas Velenoso Di nuovo In Siria Ancora La guerra Tra ribelli E Bashar al-Assad Un conflitto Che va avanti Da più di tre anni Due morti Oltre cento Fretti Il bilancio Dell'attacco Di ieri Con gas Clorino Nel villaggio Di Kfar Seita Zona centrale Del paese Come ha riferito Alla tv Di stato siriana Immediato È stato reciproco Accusarsi Della paternità Dell'attentato Da parte Di due fronti In guerra Ribelli E regime Come è accaduto Lo scorso agosto Dopo la strage Di Guta Un suo borgo Di Damasco Dove un attacco Chimico Provocò la morte Di centinaia Di persone Immediata Era stata L'assegnazione Di responsabilità Al regime Di Assad Ma diversi indizi Scoperti anche Recentemente Dal giornalista Americano Premio Pulitzer Seymour Hersh Hanno accreditato Anche l'ipotesi Che l'attacco Sia stato portato Dai ribelli Di Al-Nusra Appoggiati Dalla Turchia Per spingere Gli Stati Uniti Ad intervenire E in effetti Lo scandalo Internazionale Seguito al diffondersi Delle immagini Della tragedia Avevano provocato La dura reazione Di Obama Pronto a intervenire Al fianco Dei ribelli Con la Russia Che si era invece Schierata a protezione Del regime Di Assad Un allargamento Preoccupante Del conflitto Che si era evitato Solo per l'intervento Dell'ONU Che era riuscita Ad ottenere Se non la fine Del conflitto Almeno il disarmo Dell'arsenale chimico Da parte di Assad E' passato quasi un anno E sono solo 12 Le operazioni effettuate Sotto il controllo Dell'OPAC Organizzazione Per la proibizione Delle armi chimiche Attraverso un complicato ITER Che prevede L'imballaggio E il trasporto Dei materiali Tostici al porto Siriano Di Latakia Un'operazione Questa delicatissima Perché si attraversa Una zona di guerra La riva Gioia Tauro Su due cargo Scandinavi E poi il trasferimento Sulla nave statunitense Che prei Attualmente ferme In un porto spagnolo E distruzione Con idrolisi In acque internazionali Attraverso una cooperazione Delle forze internazionali Che avrebbe dovuto Prevedere il totale Smantellamento Dell'azionale chimico Entro i primi Sei mesi Dell'anno in corso Allo stato attuale Però come si legge Sul sito Dell'organizzazione Solo la metà Delle armi chimiche È stata rimosse Attualmente Come confermatoci Questa mattina Dall'OPAC Un cargo Scandinova Aspetta fuori Dal porto Sirano di Latakia In acque internazionali Di essere completamente pieno Prima di intraprendere Il suo viaggio Verso Gioia Tauro Nell'attesa Ribelli e regime Continuano a colpirsi Con durezza Inutile ripetere I numeri terribili Di una guerra Che ha provocato Centinaia di migliaia Di morti E milioni di profughi E che sembra Ancora una volta Molto lontana Dalla fine E nel telegiornale Avete sentito Il clamoroso E gravissimo Caso dello scambio Di embrioni All'ospedale Pertini Di Roma Una donna La quale Quattro mesi fa A dicembre Nel dicembre scorso Sono stati impiantati Gli embrioni Di due gemelli Che non sono i suoi Un caso Appunto Clamoroso Che apre La discussione Continua Sul vuoto Legislativo Che ruota Attorno Alla fecondazione Assistita Alla necessità Di una legge Regionale All'indomani Della storica Sentenza Della corte Costituzionale Che ha decretato L'incostituzionalità Della eterologa Abbiamo parlato Con l'avvocato Maria Paola Costantini Che è l'avvocato Che ha portato Davanti alla consulta Due coppie E al caso Di due coppie Ha vinto il ricorso Perché rivoluzionaria Questa sentenza Nel panorama italiano Perché erano proprio Le persone escluse E perché appunto Incide poi In generale Su un'impostazione Della legge 40 Molto rigida E discriminatoria Ed era Anche in qualche maniera Assurda Perché poi le nostre coppie Andavano tutte all'estero Con dei costi altissimi E poi tornavano in Italia E tutto ritornava come prima Però questi bambini Come dire Sono nati In maniera nascosta Nessuno sapeva Come erano nati C'è una sorta di stigma Su queste coppie E questa sentenza È importante Perché restituisce La dignità A tutte le persone C'è però Chi ha parlato Di eugenetica Quali sono stati I commenti Secondo lei Meno appropriati A questa sentenza Allora Il primo È esattamente Quello dell'eugenetica Perché in questo caso Non c'è nessuna scelta Riguardo al gamete Quindi al seme All'ovocita Il sistema Prevede semplicemente Che i cosiddetti Gameti sovranumerali Di altre coppie Infertili Possano essere donati Attraverso una regolamentazione Che è quella Che poi riguarda Tutta la donazione Di organi Tessuti E cellule Quindi è un sistema Assolutamente tranquillo Usato in tutti i paesi Del mondo Un'altra cosa Che è assolutamente Non vera Riguarda Il commercio Di gameti In realtà Proprio Facendo riferimento Sia alla legge 40 Che a questa Legislazione Di origine europea Le prestazioni Saranno tutte Gratuite I donatori Non verranno pagati Sarà assicurato L'anonimato Non sarà più possibile Il disconoscimento Di paternità E quindi ci saranno Tutte le condizioni Finalmente anche Di sicurezza Per le coppie E poi Ultima cosa Ma importantissima I centri Che dovranno fare Che potranno fare La donazione di gameti Saranno soltanto Centri autorizzati Ecco Lei parlava di centri pubblici Perché in realtà Fino al 2004 Era possibile fare La fecondazione assistita Solo in centri privati È così? Sì E questa è la questione paradossale Fino al 2004 Solo i centri privati Potevano fare le donazioni Ora ricordiamo Che Molte regioni E comunque Il servizio sanitario nazionale Protegge queste coppie infertili E quindi Noi ci assicuriamo Cioè vogliamo Che siano Le strutture pubbliche Che facciano La donazione dei gameti E seguono le coppie sterili Perciò ci dovrà essere Anche tutta una riorganizzazione Di questi centri Che ormai Non esistono più In realtà Sarà più facile Di quanto previsto Perché tutti i centri Di fecondazione assistita Autorizzati Hanno già Dei gameti Crioconservati Quello che servirà Probabilmente È che L'istituto superiore di sanità Insieme alle società scientifiche E devo dire Anche con l'apporto Delle associazioni civiche Come cittadinanza attiva Facciano un regolamento Come è stato fatto In altri casi In altri paesi E facciano Delle linee guida Quindi non serve Una legge C'è chi ha detto Che questa è l'ultima Spallata La legge 40 In fin dei conti Sì perché Con la sentenza Quella del 2009 Si è riconosciuto La necessità Di dare importanza Alla donna Alla salvaguardia Della sua salute E si sono cambiate Già dei punti centrali Con quest'altra sentenza Sempre la Corte Costituzionale Sono stati fatti Altri cambiamenti E quindi Da questo punto di vista La spallata C'è tutta E quindi Ritorna il diritto Alla scelta Il diritto Alla protezione Della salute E una sorta Di responsabilità Dello Stato Nei confronti Dei propri cittadini Senza abbandonarli All'estero Adesso parliamo Dei cambiamenti Del clima Un rapporto Dell'Università Bicocca Di Milano Ha studiato Gli effetti Dell'aumento Delle temperature Nei paesi Che si affacciano Sul Mediterraneo E quindi Ghiacciai Che si sciolgono L'agricoltura Che cambia Sentiamo nei dettagli Meglio Di cosa si tratta Poco meno Di un grado All'anno Nell'ultimo secolo L'aumento costante Della temperatura Del globo Nell'era post-industriale Scioglie Ghiacci artici Scatena Tifoni atlantici Ma sta anche Cambiando Casa nostra Gli effetti Sull'habitat Dei paesi Che si affacciano Sul Mediterraneo Viene monitorato Dal centro di ricerca Polaris Dell'Università Bicocca Di Milano Sta cambiando Il mondo agricolo Vite e cereali Si spostano Più a nord Mentre l'aumento Di anidride carbonica Modifica la fotosintesi Delle foglie Impoverendo Soprattutto i cereali Salgono i gradi E gli uccelli migratori Cambiano i loro percorsi Le rondini Nei parchi agricoli Del nord Italia Diminuiscono Ogni anno Di oltre L'8% In Europa Il calo È contenuto All'1% L'ecosistema Più a rischio È quello alpino Se si verificassero Le condizioni Peggiori Previste Dall'EPCC Ossia un aumento Di circa 4,5 gradi centigradi Nel prossimo Entro la fine del secolo Circa il 60% Delle specie alpine Delle montagne Del sud dell'Europa Potrebbe Essere soggetta A rischio Di estinzione Muschi Erbe Arbusti Cercano di sopravvivere Scompaiono Dalle vette Sempre meno ghiacciate Ma rinascono Dove trovano la neve Le frane Le valanghe Oppure Discontinuità Microtopografiche Del terreno In questi ambienti Abbiamo visto Che alcune specie Permangono Anche A più bassa quota È una resistenza estrema In uno scenario Non positivo Però Diciamo così Che abbiamo L'esempio Di alcune specie alpine Che in montagne basse Come gli appennini Continuano a perdurare Lo scioglimento Dei ghiacciai Che causa Dissessi idrogeologici Sta anche sprigionando Sostanze tossiche I DDT Per esempio Le diossine Sostanze Molto usate Nel passato Concentrate Nel ghiaccio Vecchio Nel ghiaccio Di 30-40 anni fa Lo scioglimento Dei ghiacci Può rimettere In circolazione Queste Queste sostanze Rimettendole In circolazione È stato dimostrato Che nei torrenti Alpini Di scioglimento Glaciale Le concentrazioni Sono molto più alte Che non nei torrenti Di origine sorgiva Per esempio Quando si scende A valle Gli effetti Dell'inquinamento Diventano drammatici Secondo uno studio Della commissione europea Ogni abitante Della pianura padana Dove le emissioni Delle grandi città Restano intrappolate In un'area circondata Per tre lati Da montagne Perde in media Due o tre anni di vita A causa dello smog Contro una media europea Di 8,6 mesi Effetti infiammatori A carico Dell'apparato respiratorio E effetti Di tipo Cardiovascolare Come Infarti E ictus Ora sappiamo Che il PM È un agente cancerogeno Di tipo 1 E lo sappiamo Ufficialmente Per ogni aumento Di 10 microgrammi A metro cubo Di PM10 La mortalità Per cause naturali Aumenta Dello 0,69% Nel suo paese Le Filippine È un eroe nazionale Ed è anche Un campione Mentre da noi È semisconosciuto Però la sua storia È la parabola Di un uomo Che ce l'ha fatta Partendo dal basso Ha raggiunto Record sportivi Nel suo sport Che è la box Ma anche In politica Si chiama Manny Paccaio Ed è uno degli sportivi Più pagati al mondo Manny Pacquiao Ce l'ha fatta ancora A 35 anni Suonati È tornato Campione del mondo Dei pesi Welter Versione WBO Facendo letteralmente Impazzire il suo paese Le Filippine Dove è venerato Come un dio Pacquiao ha battuto Nella notte L'americano Timothy Brackley L'incontro Si è disputato All'MGM Di Las Vegas Nel pieno stile Degli anni d'oro Del pugilato Borse milionarie 20 a Pacquiao E 6 a Bradley Più le percentuali Sui diritti tv E il tutto esaurito Nell'arena Il mondo intero Ha seguito il match In tv O su internet In streaming Dai pub Degli States A quelli Delle Filippine Tutto come una volta Il match Era il secondo Di una serie Che nessuno sa Quando finirà La prima sfida L'aveva vinta Bradley Nel 2012 Dando vita però A una lunga coda Di polemiche Vittoria ai punti Con il filippino Dominatore Verdetto contestato In tantissimi dubbi Di corruzione Bradley Dopo il match Era caduto In una profonda Depressione Tanto da confessare Qualche giorno fa Di aver tentato Addirittura il suicidio Sono fatti così I pugili Duri sul ring Fragili nella vita Pacquiao Bradley E una di quelle sfide D'altri tempi Come Tyson Holyfield O Sugar Ray Leonard Roberto Duran Per citarne Soltanto due Bisogna ammettere però Che l'incontro Non è stato All'altezza dei precedenti Pacquiao ha controllato L'avversario Con il suo tipico Stile da street fighter Senza accendere mai Il pubblico Combinazioni Super tecniche Portate a due mani Come un bullo di strada Aggressività e velocità Che insieme Sfociano nella violenza Prima del match Pacquiao aveva annunciato Nessuna pietà Per l'americano Ma poi sul ring È apparso Spento e appagato Nelle Filippine è un eroe Rappresenta il paese Come la nazionale di calcio L'Italia È anche cantante Da milioni di dischi Attore del cinema Politico Ufficiale dell'esercito Ha una laurea Honoris causa Ed è stato anche Porta bandiera Alle olimpiadi Il popolo lo ama Perché Pacquiao È nato povero Si pagava la palestra Vendendo sigarette Per strada È una sorta di Icona del paese Tanto che la sua faccia L'hanno stampata Su di un francobollo Nel pugilato Pacquiao rappresenta Lo spettacolo puro Rischiare tutto Senza paura Due anni fa Ha subito il suo terzo K.O. In 19 anni di attività Ha rischiato di non riprendersi Ma poi è tornato Alla vigilia Del match con Bradley Si era sparsa La voce Che fosse malato Un principio Di Parkinson Ma lui non ha commentato Pubblicamente La mia vita è questa Ha detto alla moglie E ai quattro figli Voglio fare ancora Due match Poi chissà Pacquiao è stato Campione del mondo In otto categorie diverse Nessuno c'era mai riuscito Significa Che nella sua lunga carriera È professionista Dal 1995 Con 61 incontri disputati E solo 5 sconfitte È passato Dai 51 chili Dei pesi Mosca Ai 67 Dei welter leggeri 16 chili Di differenza Senza mai cambiare stile Una trasformazione pazzesca Impossibile fare paragoni Con altri sport Adesso noi ci fermiamo C'è la pubblicità Tra poco 14 e 32 minuti di nuovo in diretta Non ci sono aggiornamenti Allora prima di chiudere Vi ricordo come sempre Il nostro sito Tg La 7.it Questa sera alle 20 Il telegiornale E poi come sempre Domani alle 14 Torna il Tg Cronache Buona domenica a tutti Grazie 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 Grazie